Grazie a tutti La prima cosa che mi viene in mente è l'unione Associazione Nazionale, la pubblica assistenza Famiglia Tutte persone veramente splendide che vengono qua e danno il loro tempo per farle bene in giro 16 anni, amico, servizio civile Amicizia, solidarietà e riveligamento Perchè di caffè Tesseramento Mi piace aiutare gli altri e mi piace anche divertirmi Fare volontario unisce queste due cose Se dici ARPAS dici famiglia e compagnia Solidarietà Possessarla Passione Dei pazzi squintornati Che dedicano il loro tempo agli altri gratuitamente